Ma ci sono come gli ufficiali di complemento di artiglieria che sono una grandissima scuola, che sono come noi alpini e più di noi alpini abituati a pedalare, soffrire e tenere la testa bassa ma quando la tirano su, signore attenzione perché questi sono uomini come questi che non si fermano mai, non chiuderanno mai i nostri corsi non finiranno mai finché ci sarà uno vivo di noi, noi saremo qui e gli ufficiali di complemento, signori rappresentano la prima forma di volontari iniziata negli anni 60 e 70 che ha costituito la dorsale dell'esempio di italiano ogni volta che finisce la vostra ho bisogno di 30 secondi per riprendermi è un'unica pausa che non critico questa anche se quest'anno la conformazione della donata mi ha giocato uno scherzo terribile perché mi ha messo in fila subito dietro a Osta e la prima della mia terra è un'unica pausa che non è un'unica pausa